Conquistate l'obiettivo E' attivo La guerra continua Spunta un minuto di piaccia Resta di te Non vietemi di mezzo, vi passo sopra La guerra continua Vedo tutti gli occhi del drago No! Attivo la sequenza bianco-destruzione Era da aspettarselo Ma tu non servo da solo Ti ho nel mirino Uccisione doppia Uccisione doppia Uccisione doppia Non si cacciamo quei buffoni dalla nostra zona No! Muore! Muore! Sono guaria, tente! Venite qui ancora Ti basta non solo più un ragazzino dobbiamo controllare questa zona la guerra continua tempo supplementare la guerra continua Non muovere, non mi raccomando, non mi raccomando. Non muovere, non mi raccomando, non mi raccomando. Ti ho nel mirino. Secondo round, vinto. Punteggio. Due a zero. Oh, 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 e ora mi ha un generale! Ehi! Non mi fido, Dottor, e non mi piace questo posto. Cosa, città di a vuoto, usciavo! Ditto! 5, 4, 3, 2, 1, terzo ramo. Conquistate l'obiettivo. 3, 2, 1, terzo ramo. 3, 2, 1, terzo ramo. Qualcuno servono pure? Non sono ancora morto. 3, 2, 1, terzo ramo. 3, 2, 1, terzo ramo. Non sono ancora morto. Oh, diavola. Salve. Ho ancora qualche asso nella manica. Coltisci. Sto andando a manetta! Avrò visto l'uomo in più. La spirale della morte. Il marchio del tarasso. L'opi è vivo. È mio. Non sono ancora morto. muori. Muori. Ma contattia! La missione non è ancora finita. La mia ultra è pronta! La mia mira è infatti. È forte! Voi! Tione il mirino! Tione il mirino, resistenza neutralizzata! Come va! Siamo qui, cosa c'è la parecchia grande? Vittorio! Azione migliore! Muori! 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 Grazie! 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 Grazie!